Le piazze principali di Rovette e San Lorenzo, i due parchi e centri sportivi dei paesi, da qualche giorno sono coperti dal segnale hotspot wifi gratuito, grazie a un servizio messo a disposizione dal comune. Con il proprio portatile o il cellulare si potrà navigare in internet fino a un massimo di due ore giornaliere. Abbiamo voluto fare questo interessante servizio perché è stato molto richiesto anche dai villeggianti. Abbiamo fatto una rete wifi che consente la connessione ad internet in spazio aperto, in spazi pubblici, come è stato ricordato nelle piazze, nei parchi e nei centri sportivi di Rovette e di San Lorenzo. Abbiamo già riscontrato un notevole interesse, sono moltissimi contatti che sono già avvenuti e le richieste di informazioni presso il comune di Rovette. Gratuitamente un cittadino o un turista può connettersi previa registrazione per un massimo di due ore giornaliere e questo lo può fare tutti i giorni che vuole. Per connettersi basta poco, è necessario inserire le proprie credenziali e il numero di cellulare nel sistema di accesso? Sì, è molto semplice. La prima registrazione avviene inserendo nella schermata sul pc di registrazione il proprio nome e il numero di cellulare sul quale arriva un messaggio con la user ID e la password che sono le credenziali di accesso. Ogni qualvolta si accede al servizio, si inseriscono appunto questi dati e si può navigare liberamente per due ore al giorno. Questo modo consente di avere una rete sicura perché viene registrato ovviamente la sim di colui che utilizza il servizio e l'accesso ai siti è anche limitato con dei filtri per vietare l'utilizzo della rete informatica per l'accesso dei siti che non sono ritenuti consoni.